ben trovati da florenzi casa florenzi casa come sempre grandi promozioni in questo caso ne abbiamo battezzata una veramente speciale liberiamo la stanza vogliamo rinnovare il nostro reparto notte vogliamo cambiare i connotati alla zona notte e quindi abbiamo fatto degli sconti eccezionali con la promozione liberiamo la stanza sconti fino al 50 per cento con tutti i mobili in pronta consegna esposti nel nostro reparto notte venite a trovarci venite a vedere a toccare con mano le nostre offerte ma fate alla svelta perché sì che di primavera si dorme bene ma chi dorme non piglia pesci e chi dorme non approfitta di questa grandissima occasione di florenzi casa che vi ricordo è in via stale fiorentina a dolmi di pistoia e che siamo aperti anche la domenica pomeriggio le promozioni nostre non finiscono solo nel reparto notte ma vi ricordo anche le nostre offerte sulle cucine componibili e tutti gli altri nostri reparti che vanno dall'oggettistica al casalingo all'illuminazione al piccolo arredamento vi aspetto numerosi liberiamo la stanza è un'offerta imperdibile